Buon salvone appassionati di Football Manager! Oggi torna la carriera giocatore, un unicum nell'intero panorama di Football Manager. Vi rimando all'episodio numero 1 per i dettagli tecnici. Ricordiamo solo che dobbiamo essere un po' allenatori di calcio, un po' preparatori, un po' anche agenti di un giocatore perché la vera particolarità di questa carriera è che noi non ci concentriamo sulla squadra ma su un unico protagonista, che nel nostro caso è il tallandese Sufana Muenta. Partiamo quindi da dove ci siamo lasciati, dallo strappare il contratto col Buriram United, club thailandese che ci aveva lanciato sin dalle giovanili. No, lo so, state pensando siamo come Donnarumma e riconosce... Non è vero! Noi siamo andati a cercare fortuna, gloria... Sì, un pochino sì, perché siamo andati anche per i soldi. Però sta di fatto che ce ne andiamo in Corea e voi direte, sì, ok, ma quale delle due? Fino al 1900 questo era l'unico paese ed era un possedimento dei giapponesi, sì, quelli carini, quelli bellini che ora vengono tanto osannati. Da lì andavano a prelevare le materie prime per mangiare e lì chiaramente li sfruttavano pure. Poi perdono la seconda guerra mondiale e tra le tante cose perdono anche il possesso del Corea. A questo punto il paese viene suddiviso in due parti, sopra e sotto il tradottesimo parallelo. Il nord sotto l'influsso sovietico e il sud sotto l'influsso americano. Chiaramente questi due paesi dovrebbero in qualche modo collaborare. Russia e America. Che risate. Sta di fatto che alla fine questi due se ne vanno, con tante virgolette, e scoppia chiaramente la guerra tra la parte nord e sud. E a un certo punto sta per vincere persino la Corea del Nord, il che ora ci fa ridere perché è uno dei paesi più poveri al mondo, hanno anche uno dei paesi più pericolosi al mondo, ma quello è un altro discorso. Sta di fatto che a un certo punto la Corea del Sud riesce a riprendersi più o meno gli stessi territori che aveva pre-guerra, grazie anche agli aiuti internazionali. Quindi nel 1953 teoricamente il conflitto termina con un paese ancora diviso a metà. Ed è qui che posso dirvi che noi andremo a giocare con Sufana Unità proprio in Corea del Sud. Un paese che è passato dall'estero e più poveri al mondo negli anni 50 a rientrare addirittura nel G20. Per quello sviluppo economico che ha avuto talmente clamoroso che ancora oggi si parla di miracolo della Corea del Sud. Ovviamente non poteva però mancare un lato scuro dietro questa grande crescita. No, non quello. Le Chables, parliamo di conglomerati aziendali, quindi società molto diverse che vengono riunite sotto un unico gruppo e poi il fondatore lo va a cedere a livello dinastico. Quando smette di essere su questo mondo lo cede ai figli. Ma non è neanche questa cosa curiosa. Una sessantina dei conglomerati più ricchi della Corea genera più dell'80% del pil del paese. Questo è assurdo, ma la cosa ancora più interessante dal nostro punto di vista è che i tre maggiori Chables sono Samsung, che di fatti non produce solamente televisori. Al secondo troviamo SK Group, magari qualcuno la conosce un po' di meno, ma ha le mani in pasta in tante cose, semiconduttori, aziende farmaceutiche, persino la produzione di batterie per le auto elettriche furbi. Al terzo posto abbiamo la Hyundai. Bene, tutti e queste tre Chables hanno anche una scuola di calcio. Oh, ti pareva che la nostra doveva essere per forza quella che non aveva vinto quasi nulla? E infatti noi abbiamo firmato insieme a Sufana Muenta proprio con lo Jeju United, di proprietà dell'SK Group. E storicamente, nonostante siamo uno dei membri fondatori della K-League, il massimo campionato coreano, si è vinto uno scudetto nel 1989. Quindi abbiamo un presidente ambizioso, che non vuole cacciare i soldi, e abbiamo Sufana Muenta, che non parte sicuramente favorito per vincere qualcosa in questa nazione. Ma soprattutto abbiamo un presidente furbo, perché il Jeju United non si chiamava così inizialmente, anzi, era stato fondato vicino a Seula, poi delocalizzata più volte per portare il calcio alle periferie del paese. Quarta caso però si trasferiscono poi a Jeju. Cioè, l'isola riesce ad avere una produzione economica che viaggia il doppio di quella del paese. Avete capito perché si è trasferito lì? Comunque, nell'isola di Jeju, che nasce inizialmente perché arrivano tre semi dèi, che escono fuori dalla terra, guardano in mare, l'arrivo di tre principesse, e poi, puffete puffete, nasce la popolazione sull'isola. Ma io mi chiedo, ma se ne uscivano due di principesse, come caspita facevano? Attenzione però, perché il nostro club comunque ha un record importante e ce l'ha. Negativo però, perché praticamente la scuola ha fatto meno punti possibili in una stagione di massima serie coreana, 11. Era l'anno 1997. Voi direte, quindi, ai Fidenza di B? No, perché fino al 2012 non esistevano le promozioni e le retrocessioni. Poi, da quest'anno in poi, è stato assunto il modello scozzese. Quindi abbiamo due fasi, le squadre sono 12, si affronteranno tra di loro 33 volte, 11 per 3, quindi dispari. Poi, fase 2, il campionato viene suddiviso a metà esatta, le prime 6 si andranno a sfidare tra di loro, quindi ci saranno altre 5 varie in più, e ulteriormente verrà fatto anche giù. Quindi, alla fine, ogni squadra avrà fatto almeno 38 partite, dico almeno perché chiaramente ci sono anche i play-out per decidere chi può rimanere in serie maggiore e chi scendere in B. Le prime 4, invece, possono accedere a quella che è la Coppa dei Campioni Asiatica. E veniamo alle regole di registrazione della rossa, perché qui alcune sono un po' diverse dal solito. Innanzitutto, non si può avere un portiere di nazionalità diversa da quella sudcoreana, ma questa è una cosa simile a tante altre federazioni asiatiche che puntano ad avere proprio i loro portieri. Dopodiché, non essendoci la comunità asiatica, a modo di quella europea, o sei coreano o sei straniero. Se però sei comunque uno straniero di una nazionalità del continente asiatico, hai uno slot extra, quindi puoi registrare al massimo 6 stranieri, solo però se uno di questi è comunque asiatico, se no scendono a 5. Tra l'11 che può scendere in campo e i 7 massimo panchinari, possono esserci però un massimo 4 stranieri, sempre però se uno è asiatico, se no scendono a 3. Altra particolarità è che i coreani sono inventati un sistema veramente furbo per farvi investire nel settore giovanile. Se in quella data giornata di campionato voi infatti non avete la possibilità di schierare tra l'11 di partenza e quelli che mettete in panchina un tot numero di under 22, la vostra panchina non sarà di 7, ma via via, si andrà appunto a ridurre in base al numero di giocatori che non potete mettere che sono under 22. La cosa carina è che anche il numero di cambi vanno scendendo dai possibili 6, ma solo se il portiere è rotto, quindi i soliti 5 perché su FM il portiere non si rompe mai, vanno via via scendendo proprio perché voi venite puniti per non avere un tot numero di under 22. Anche il campionato coreano, come per la maggior parte i campionati asiatici, seguono l'anno solare, però attenzione in questo momento è fermo, quindi prima di vedere il Jeju United in azione dovremo vedere Sufana Muita impegnato con la nazionale thailandese. Poiché il continente asiatico è molto ampio, ci sono un sacco di nazioni con tasso tecnico anche molto differente le une dalle altre, oltre a esserci la classica competizione per nazionali continentali, per appunto la Coppa d'Asia, qui troviamo anche le competizioni minori, sempre nazionali, che fanno riferimento all'area geografica a cui queste nazioni appartengono. Per esempio l'Italantia partecipa alla FFK, ovvero la competizione per nazionali del sud-est asiatico, un po' come se in Europa, oltre all'Europeo, ci fosse la Occidental Cup, con partecipazione di Portogallo, Spagna, Francia, Germania e compagnia bella. A questa però competizione minore non abbiamo voluto partecipare, perché da 1996 ad oggi spesso e volentieri è l'Italantia a vincere, e soprattutto di solito non chiama neanche i migliori giocatori, ma quelli più giovani, un po' come facciamo anche noi come Italia quando si va alle Olimpiadi. Quindi ci sembrava un po' scorretto prendere in gestione questa squadra, contro nazioni come Laos, Timorese, avremmo decisamente sbancato. Curiosamente li ha fatto vincere la Tailandia contro i Vietnam, così come è successo a gennaio 2000 e vedi tre. Assurdo. Adesso però vediamo cosa combiniamo nella competizione maggiore, ovvero la Coppa d'Asia, perché lì la Tailandia non conta quasi nulla. Infatti in questa manifestazione che si gioca dal 1956, prima edizione vinta alla Corea del Sud, e si gioca ogni quattro anni, un po' come il nostro europeo, la Tailandia al massimo vanta una terza posizione. Solamente però nel 1972, quando tra l'altro era la nazione ospitante, quindi traete voi le conclusioni di come è riuscita ad arrivare in quella posizione. Ora, la nazione che ha vinto più spesso è il Giappone, ben quattro volte davanti alle tre dell'Iran e dell'Arabia Saudita. Vediamo il nostro girone. Finiamo dunque nel gruppo E, dove ci sta l'Arabia Saudita, che sicuramente arriverà prima perché è una delle candidate a vincere. Poi ci sta la Giordania, che è messa anche meglio di noi a livello di ranking, e poi l'Indonesia, che incrociamo le dita, dovrebbe essere l'agnello sacrificale. Qui passano le prime due di ogni girone, sono sei gironi, poi passano le quattro migliori terze per completare gli ottavi. 16 giugno 2023, la prima partita del girone la giochiamo contro la Giordania, vinciamo 6-1, risultato rotondissimo, gol anche di Sufanaumentà. Poi 0-0 contro l'Arabia Saudita, ed è sicuramente un ottimo risultato vista la qualità del nostro avversario. 1-0 soltanto contro l'Indonesia, ma tanto basta per riuscire a qualificarci come i primi, davanti all'Arabia Saudita, meglio del previsto. Terza passa anche la Giordania, poi ottavi. La sfida però si complica subito al tredottesimo, quando ci sta il rigore per l'Uzbekistan. Shomurdov, giocatore da Roma in prestito quest'anno al Cagliari, va così a fare gol dell'1-0. Ed è così che purtroppo finisce anche la gara, perché complice anche l'espulsione al 47 di Kaman, proprio non riusciamo a mettere in difficoltà il nostro avversario, ci stanchiamo anche di più, come potete notare, da livello delle condizioni, e facciamo i complimenti all'Uzbekistan. Diamo uno sguardo anche al tabellone, dove si vede come l'Uzbekistan, che ci ha battuto, poi perderà ai quarti contro il Bahrain, mentre l'Australia, battendo l'Arabia Saudita 3-0, riuscirà a arrivare fino in finale, battere anche il Qatar, vincerà quindi questa Coppa d'Asia, per la seconda volta nella sua vita dopo il 2015. Francamente mi aspettavo un po' di più da Sufana Muay Thai in questa esperienza internazionale, certo non mi aspettavo di vincere la competizione, ma quantomeno di fargli fare qualche gol in più, ne ha fatto appena uno. Però, attenzione, a reti unificate, in Thailandia, facciamo una promessa al popolo. Noi riusciremo a battere il record di miglior ranking, che attualmente risale al 1998, quarantesima posizione per l'Atalandia, e soprattutto Sufana Muay Thai, che al momento ha otto reti nazionali, l'ha promesso, diventerà il più grande cannoniere della nazionale. Sì, ma alcuno di voi magari potrà dire, ma che ci vuole al massimo? Ci sarà il signor Burum Bum Bum, che avrà fatto 40 gol. Oh, qua mica ci abbiamo Gigi Riva, che ha fatto appena 35 gol. Qui ci sta il signor Sena Muay Thai. Cioè, rispetto, questo ragazzo è riuscito a fare 71 reti, quindi bisognerà farne almeno 72, in questa carriera, per Sufana Muay Thai. Ci dimettiamo quindi da commissari tecnici della nazionale, e prendiamo possesso del club. Qui, la prima nostra partita ufficiale, sarà il 28 giugno. Sufana Muay Thai è arrivato il 23. Quindi, l'ultima partita, che il Jeju ha fatto, senza di noi come mister, e senza Sufana Muay Thai come giocatore, è un pareggio in casa, contro l'Ulsan, per 2 a 2. Secondo i massimi esperti, del campionato coreano, i media, dovevamo arrivare a sesti. A momento siamo quinti, ma la cosa davvero interessante, è che questa classifica, è davvero stracompatta. Tra la prima, e la sesta posizione, ballano appena 5 punti. Vi ricordo che la fase 1, terminerà tra 12 giornate, quindi, l'importante, è rimanere, entro le prime 6 posizioni, e abbiamo 7 punti di vantaggio, sul Daigo, quindi dovrebbe essere fattibile. Ma attenzione, il Jeju, ha sempre ballato tra la terza, e la quinta posizione, nelle ultime giornate. Quindi, dovrebbe essere fattibile, provare poi, nella fase 2, a rientrare, almeno nella quarta posizione, che ci potrebbe dare, l'accesso, per le competizioni continentali, perché sto ragazzo, sto momentà, fino adesso, non ha mai giocato, la Champions League asiatica, e sarebbe sicuramente, un obiettivo prioritario. Anche se il Jeju United, non è sicuramente, la squadra più forte, di questo campionato, della Corea del Sud, va detto che la rosa, come numero, ci starebbe anche, abbiamo circa 5 difensori centrali, anche se 2 o 3, sono veramente scarsi, abbiamo 2 terzini per lato, anche se 2 sulla sinistra, sono davvero lenti, ma l'età media stessa, della squadra, è veramente alta, abbiamo 5 mediani, e volendo, ci sono talmente, tanti giocatori, sulla tre quarti, che potrebbero giocare, nel 343, che decidiamo, di mettere anche questa volta, il 343, abbiamo anche un vantaggio tattico, perché Sufana Mouenta, conosce già benissimo, quella posizione, ha già acquisito la famità, e non la perde, ovviamente, perché l'ha utilizzata, anche in nazionale, quella posizione, quindi arrivando al Jeju, sarebbe già in là, avanti, rispetto ai suoi compagni, come siamo messi, a livello finanziario, beh abbiamo circa 6 milioni, a bilancio, ancora da spendere, su un mercato, ma vi ricordo, che c'è la DSM, adattiva, quindi sarà il direttore sportivo, a gestire entrate, e uscite al massimo, noi potremmo indicare, qualche profilo, da andare a prendere, o al massimo, mettere il veto, su qualche operazione, che proprio non esiste, perché ci rovina, il progetto, abbiamo anche lo Sugar Daddy, assicuratore, cioè quello che mette a posto, i conti, non quello che fa, spese folli, ma ce ne sono tantissimi, altri club, più o meno siamo uguali agli altri, questo è assurdo, più o meno vedo le stesse potenze, economiche, tra le due squadre, in questa stagione, abbiamo lo Yeung Book, che ha un bilancio, quasi del doppio, rispetto al nostro, con però attenzione, 10 milioni da spendere, sul mercato ancora, e poi c'è l'Ulsan, l'Ulsan ha circa 7 milioni, a spendere sul mercato, ma 21 milioni, a bilancio, entrambi questi club, hanno invece lo Sugar Daddy, quello potentissimo, ricco ricco ricco, quindi diciamo che, sul mercato, non saremo avvantaggiati, rispetto a questi club, diamo uno sguardo, anche ai migliori profili, di questo Jeju United, partendo da Yuri, un brasiliano, ma atipico, perché anziché essere forte, tecnicamente, nel dribbling, lui le giocate non le sa fare, è forte invece, dentro la piccola, troneggia col suo gioco aereo, Q, già ceolla, sicuramente il beniamino, dei tifosi del Jeju, beh io proverò a venderlo, perché sì, tecnicamente e mentalmente, fenomeno, potremmo dire di categoria superiore, rispetto al campionato, però ormai, non si muove più, e ambidescro, per carità, però non si accoppi neanche di testa, benissimo, nonostante sia alto, quindi dove lo metto, c'entra avanti, non posso, non posso, andale andale, anche perché, 370k, su quasi 400, lo stipendio più alto di tutti, dobbiamo abbassare, in molti stipendi, Choi Jung Jung Jung, un altro over 30, ma sta messo molto meglio, a livello fisico, quindi lui sarà il nostro, secondo mediano, Kim Dong Jung, questo è un portiere, che è stato fatto in maniera, molto curiosa, perché ha delle mentali buone, tecniche buone, però ha presa 11, cioè, rispetto alla scheda, su me questa, ha perso un po' di punti, in cose un po' inutili, però, ce lo facciamo bastare, come abbiamo operato, sul mercato, su due linee, la prima, rinnovare quei contratti, che erano troppo alti, cercando di abbassare, lo stipendio fisso, mentre dopo qualche bonus in più, perché il nostro monte stipendi, era talmente alto, che non ci consentiva, tante manovre, dopodiché, quelli che non accettavano, abbiamo provato a venderli, su un mercato, tra cui quello che veramente, prendeva troppo, quindi, abbiamo circa incassato, 350 mila euro, come cartellini, ma di più, considerando i contratti, che vanno via, vi sono evidenziato solo, le operazioni, di nostra competenza, come nostra gestione, vi evidenzo anche, quelle che sono le operazioni, soprattutto, in entrata, circa 3 milioni, quindi, che abbiamo speso, e vediamo i due acquisti, più interessanti, in assoluto, partiamo da attenzione sinistro, Li Tazuka, un giocatore che ha 20 anni, quindi abbiamo, un potenziale ancora, da far evolvere, ma soprattutto, è più rapido, di quelli, che avevamo già in squadra, Li Hanboom, difensore centrale, che arriva sempre dal Seoul, tra tutti e due, gli abbiamo dato 2 milioni e mezzo, e suo pure rivale, comunque, è un giocatore davvero, ancora grezzo a livello tecnico, guardate per esempio, colpo di testa, contrasti, e soprattutto intuito, però fisicamente, è messo molto bene, c'ha 20 anni, anche lui può crescere tanto, e quindi abbiamo puntato, sul futuro, questa quindi sarà, la formazione titolare, come ben sapete, con il club possiamo giocare, però non tutte le gare, solamente il 25%, delle partite, è a nostra disposizione, quindi, decidiamo di non concentrarci, nella coppa, ed è un grande errore, perché subito usciamo, alla prima partita ufficiale, 2 a 2, sì, però ai rigori, usciamo già, al quarto turno, della coppa nazionale, il presidente, ci fa capire, che tra un po', potrebbe anche pensare, a un'altra scelta, se non fosse che poi, in campionato, dopo una valanga, di amichevoli, che abbiamo messo per razzare, la famità, prima di allenare, chiaramente, su famità, con il suo specificamento, che è diverso, da quello che abbiamo utilizzato, in Thailandia, ma poi ne parleremo, abbiamo fatto, una sequela, di vittorie, e qualche pareggio, quindi, non abbiamo mai, perso neanche, un incontro, né in fase 1, né in fase 2, nonostante non avessimo, la scuola più ricca, e neanche quella, dal tasso tecnico migliore, nonostante partissimo, anche, in una quinta posizione, siamo arrivati, a vincere il campionato, con ben 12 punti, di vantaggio, sulla seconda, con Yuri, che diventa, capo caloniere, con 25 gol, su fanamentà, non ne ha fatti tantissimi, in campionato, si è fermato, a 12, se però, consideriamo, l'intera stagione solare, spezzettata, 6 mesi al Buriram, in Thailandia, e 6 mesi al Jeju, in Corea, e effettivamente, questo ragazzo, in un'unica stagione, ha fatto ben 25 gol, sì, perché al Buriram, ha fatto anche due reti, nelle coppe, se poi ci mettiamo anche, la rete, con la nazionale, in Coppa d'Asia, sale a 26, insomma, non è male, per un giocatore, che comunque gioca, in un attacco a 3, certo, in un attacco a 2, forse, poteva fare anche più gol, però secondo me, ancora si deve irrobustire, in questo momento, io sto pensando a lui, per farlo crescere, non per fargli segnare, tanti gol, perché il mio obiettivo, è proprio poter dimostrare, che con l'anamento, si può trasformare, fisicamente, un giocatore, come Sufana Mouenta, che non ha neanche, un grande PA, piccolo santo, in avanti nel tempo, siamo a giugno 2024, non è un caso, che ci fermiamo proprio qui, per analizzare un attimino, la scheda di Sufana Mouenta, perché è circa un anno dopo, rispetto all'analisi, che abbiamo fatto, nel primo episodio, dopo la sua esperienza, al Buriram United, in Thailandia, lì, abbiamo visto che dopo, circa tre mesi e mezzo, di due lavoro, con programmi di allenamento, volti a far crescere, la scheda del ragazzo, era cresciuto in ben quattro qualità, adesso dopo un anno, è cresciuto in tredici qualità differenti, ma prima di analizzarle, vediamo che programmi, abbiamo utilizzato, chiaramente, con due gare settimanali, possiamo direzionare meno bene, i punti esperienza, elargiti dall'allenamento, questo perché, con due gare, siamo costretti a mettere, delle riabilitazioni in più, come sessioni, altrimenti, la predisposizione agli infortuni, si alza troppo, dovuto al fatto, che l'intensità della partita, è la più alta possibile, tra le sessioni di allenamento, perché sì, la partita è una particolare sessione di allenamento, che tra l'altro, non ci fa fare altre sessioni, in quella giornata, il punto però, è che è più interessante il programma, con una sola partita, perché lì vi faccio vedere esattamente, dove sono tutte le sessioni di crescita, che abbiamo inserito, e che alcune invece, abbiamo dovuto togliere, col programma a due gare, in questo programma, abbiamo sei sessioni di allenamento fisiche, di cui tre schede diverse, ovvero autonomia, resistenza e velocità, l'idea sarebbe quella di provare, in futuro a mettere, due sessioni, per ognuna di queste schede, qui ho sacrificato, una sessione di autonomia, per mettere una in più di velocità, perché per me ragazzi, è davvero troppo lento, almeno inizialmente, finché non migliora tanto, accelerazione, agilità e velocità, faremo così, poi l'autonomia chiaramente, fa aumentare resistenza, e integrità fisica, mentre la resistenza, fa invece aumentare, soprattutto la forza, e l'impegno, le altre sessioni, come le abbiamo messe, beh, fine d'azione, sono una punta, ci serviva per aumentare, soprattutto fine d'azione e freddezza, mentre, la creazione di occasioni, è fondamentale, per alzare passaggi e visione, e anche il giocatore, che deve servire i compagni, ma attenzione, sono le persone offensive, per lavorare soprattutto, su dribbling, e anche cross, ora, io vi ho detto, quelle che sono le qualità, più importanti, quelli che mi interessavano, maggiormente, per poter alzare, alcune cose, di su fanamuenta, ma chiaramente, queste sue, le fanno anche altro, ora, vediamo veramente, in cosa è cresciuto, su fanamuenta, ormai è passato più di un anno, da quando è iniziata questa avventura, e quindi possiamo finalmente, analizzare i progressi, delle qualità di su fanamuenta, su un arco temporale, molto più ampio, potremmo per esempio, analizzare ogni singola qualità, da febbraio 2023, fino a giugno 2024, praticamente, un anno e mezzo, qui possiamo renderci conto, veramente, come la crescita, di ogni singola qualità, è lenta, non è rapida, per esempio, se noi analizziamo, l'accelerazione, che era partita, nell'avventura a 12, e che aveva già avuto, un'impennata, tra marzo e aprile importante, e che era rimasta, però sempre a 12, è davvero salita, solamente tra ottobre, e novembre, ma come valori, chiaramente intero, noi sappiamo benissimo, come abbiamo già dimostrato, nello scorso episodio, che i valori, su FM, sono con la virgola, anche se noi li vediamo, semplicemente, come valori interi, ecco, dopo 11 mesi, sto ragazzo sale, da 12 a 13, capite adesso, perché quello che vi dicevo già, nella lezione numero 2, sull'anamento, che bisogna prima, andare a focalizzarsi, sulla famità, perché lì, può volerci anche solo un mese, un mese e mezzo, poi si va sui legami, perché ci vogliono mesi al plurale, sì, ma non tantissimi, poi si va a migliorare le qualità, perché come potete vedere, ci può volere anche un anno, per aumentare di un punticino, quindi non ha senso subito, buttarsi sulla crescita, del giocatore, ragazzi, è così, che si fa l'anamento, su FM 23, finiamola, di farci, delle pippe mentali, allucinanti, cioè non è che, io faccio pochi gol, in una settimana, allora in qualsiasi sia, ficco, la sessione di finalizzazione, quella serie per far crescere, il giocatore in finalizzazione, e non cresce così, ci vogliono mesi, così come è inutile, andrà a mettere, la difesa dei attaccanti, perché voglio migliorare, il reparto difensivo, perché ho visto che si è mosso male, la settimana precedente, questo è quello che avviene, magari nel caccio reale, che vai a lavorare, chiaramente, su come si muove, l'intero reparto, su FM, esiste solamente, il concetto di familiarità, e di legami, che sicuramente, può migliorare, diciamo, il modo di mettersi in campo, dei giocatori, ma ripeto, finisce lì, non esiste la sessione, che serve per migliorare il reparto, non funziona così, FM, prima ce lo si mette in testa, e prima si avranno finalmente, risultati positivi, con sto gioco, stesso discorso, anche per l'agilità, siamo partiti con questo valore, a 13, e nonostante qualche impennata, ci sarà anche durante, questi mesi, solamente a partire da marzo 2024, cambia qualcosa, perché vedete come, ad aprile, scatta a 14, quindi anche qua, ci è voluto più di un anno, addirittura, da che abbiamo allenato, l'agilità, grazie alla sessione, come al solito, di velocità, per poter vedere un punto in più, cioè più di un anno addirittura, anche la velocità migliora, a novembre 2023, anche qui, dopo 11 mesi, finalmente, vediamo un punto in più, sale di un punticino, anche resistenza, ad agosto 2023, ma ci sono già ulteriori impennate, per esempio, tra marzo e aprile 2024, quindi spero che si possa arrivare a 14, nel prossimo futuro, merita un discorso, a parte l'equilibrio, era già salito di un punticino, passato da 7 a 8, nell'episodio numero 1, adesso passa da 8 a 9, già a novembre 2023, nell'episodio numero 2, di questa carriera, giocatore, è più facile, in sostanza, far salire quei valori, che sono molto bassi, se vengono allenati, allo stesso modo, di altre, qualità che invece, sono più alte, attenzione anche un altro aspetto, perché questi valori molto bassi, tendono a pesare un po' di meno sul CA, rispetto a valori già molto alti, cioè far salire di un punto, l'equilibrio, chiaramente mi pesa di meno, se sta a 7, rispetto a far salire di un punto, la velocità se sta già a 18, tra l'altro, questi valori hanno un peso differente, anche in base al ruolo, anche la forza, ha subito un'impennata, tra marzo e aprile, ma resta sempre a 11, il vero upgrade, c'è stato tra ottobre e novembre, dove è passato, questo valore da 10 a 11, cresce di un punto, anche la freddezza, passando da 14 a 15, esattamente a novembre, questo anche è un valore che è cresciuto di due punti dall'inizio di questa avventura, nel primo episodio era già salito di uno, sale di un punto anche l'impegno, passando da 11 a 12, così come sale anche la visione di gioco, passando da 12 a 13, passiamo adesso alle qualità tecniche, crescono il cross, che passa da 8 a 9, cresce anche il dribbling, che passa da 13 a 14, e udite udite, sale anche finalmente la fila di azione, passando da 14 a 15, ma non è finita qui, perché l'altra caratteristica che sale sempre, nelle qualità tecniche, è il passaggio che passa da 10 a 11, se vi ricordate le sessioni che avevamo messo, nel programma di allenamento, di suo fan aumenta, guarda caso, andavano a toccare tutte quante queste qualità, anche altre, che sono state sicuramente soliticate, ma che ancora non sono cresciute, ma come voleva dimostrare, il programma che abbiamo utilizzato, ha portato veramente dei vantaggi, e guarda caso, le ha portate soprattutto, su quelle qualità che sono state sollecitate, anche più volte, e non una sola, per sessione di allenamento, come è andata fin qui, la seconda stagione di suo fan aumenta al Jeju, vi ricordo che a luglio in Corea, ancora si sta giocando, siamo circa a metà stagione, il ragazzo però ha già fatto più gol dell'anno precedente, 20 reti, in 17 partite di campionato, anche la media voto è molto alta, superiore all'8, questo è dovuto anche al fatto, che ovviamente i legami sono più forti, all'interno del club, perché i ragazzi si conoscono, da un po' di tempo ormai, e soprattutto c'è un forte legame con Yuri, l'attaccante centrale, per quanto ci riguarda a noi, ovvero a suo fan aumenta, bene, per quanto riguarda i gol, che però riesce a fare in campo, non sono casuali, alcuni sono dovuti alla tattica, nel 3-4-3 portiamo tre attaccanti in aria, quindi alcuni sono dei semplici tap-in vincenti, in area piccola, perché i difensori non possono marcare due o tre, ok, però altri sono dovuti a movimenti pazzeschi, su fan aumenta, che, attenzione, scatta sul filo del fuorigioco, e si muove bene nei mezzi spazi, non è un caso, ha imparato due caratteristiche dall'inizio dell'avventura, quando ancora stava in Thailandia, che sono proprio scattare sul filo del fuorigioco, che è una cosa che si può apprendere facilmente, se un giocatore è atletico, e soprattutto ha intuito 13, attenzione, queste caratteristiche del giocatore possono essere apprese, tramite l'utilizzo dei preparatori, ma richiedono che il giocatore abbia delle qualità propedeutiche, e in questo caso appunto c'era l'intuito, la seconda caratteristica che ha preso, è il muoversi negli spazi, cosa che si può apprendere, apprendere se il giocatore ha un buon valore in senza palla, tutte qualità propedeutiche che aveva Sufana Moneta, quindi vi invito assolutamente, a sfruttare questo video che abbiamo fatto, per insegnare queste caratteristiche, perché poi ne gioverete quando scenderete in campo. Perché abbiamo messo tanta enfasi però a luglio, in questa seconda stagione di Sufana Moneta al Jeju? Beh perché il mercato europeo si apre, e arriva un'offerta, Sufana Moneta ha voglia di mettersi in difficoltà col vecchio continente, quindi si vola in. andiamo. Grazie. Grazie a tutti.